Sono quattro titoli praticamente in tre mesi. Apriamo con Madama Butterfly, è una coproduzione che facciamo col festival di Spontini e di Iesi, con il teatro di Treviso e altri teatri all'estero. Madama Butterfly, delle cose per le quali vale la pena di vivere, direi. E poi andiamo a novembre con un'opera di Masnè, il Werther, ispirato ovviamente ai dolori del giovane Werther di Goethe, che vede il protagonista Francesco De Muru, acclamato a New York, al Metropolitan, presente in tutti i teatri più importanti del mondo, è un onore per noi averlo qui. E poi andiamo su due produzioni che sono state pensate, fatte, realizzate qui a Ferrara. Una è la Maria de Buenos Aires di Astor Piazzò, la musica meravigliosa, infinita. L'abbiamo costruita qui, ha già debuttato a Ravenna, poi andrà anche in altri teatri, a Lucca, a Pisa, a Chieti, e ospiteremo qui a dicembre, il 18-19 dicembre. E poi, una cosa meravigliosa, dopo quasi 300 anni, restituiamo onore e gloria ad Antonio Vivaldi, che scrisse una versione del Farnace per Ferrara, per il Carnevale del 1738. Il legale pontificio gli impedì di rappresentarla, perché era chiacchierata una sua relazione con una sua figlioccia, in realtà era una cantante che lui aveva scoperto, aveva portato in giro per tutta Europa, Anne Girò, e lo accusarono di questa relazione. Lui era prete e quindi gli impedirono di rappresentare per il Carnevale del 38 al Teatro Bonaccossi di Ferrara il Farnace. Invece noi lo faremo ritornare a Ferrara, diretto da Federica Maria Sardelli, il migliore direttore vivaldiano che si possa avere nel mondo. e ci sono anche forze ferraresi, il Coro di Santo Spirito.